Domani l'Aquila Calcio alle ore 15 allo Stadio Gran Sasso affronterà il campo basso per il recupero. Era una gara fortemente a rischio per i soldi che l'Aquila Calcio devi alla Lega, ben 13.000 euro che la Lega aveva chiesto prima della gara, ma sembra stato trovato un accordo per ratezzare la somma. Ieri la squadra, agli ordini del tecnico per Francesco Battistini, si è ritrovata allo Stadio Gran Sasso nonostante fosse una giornata di festa e nonostante i debiti col comune per la frizione dell'impianto sportivo, decisioni di chiusura dello stadio non sono state adottate e qui rientra anche il buon cuore di comune e dirigenti, ma anche questa situazione andrà risolta perché l'Aquila continua ad avere un debito con l'amministrazione di ben 135.000 euro e vanno pagati gli affitti settimanali del campo e anche le partite. E dopo i problemi con le utenze a casa dei calciatori e gli stipendi a squadra e staff che non sono stati ancora saldati, si è fermi, lo ricordiamo, a quattro mensilità, l'orizzonte, se non si metterà a mano al portafoglio, appare sempre più nero perché è difficile pensare che si potrà andare avanti senza pagare il campo, senza pagare le utenze, senza pagare gli stipendi e con le ingiunzioni che arrivano. Così allateriamo a campare giorno dopo giorno con una squadra che invece continua a lavorare sempre a testa bassa ogni giorno e con quei pochi collaboratori rimasti che con le loro poche forze cercano di mandare avanti la baracca, ma fino a quando?